Una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze, tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree della regione. E' quanto viene richiesto da più parti per una sanità sempre più rispondente alle aspettative degli utenti. E sull'argomento è intervenuto Mauro Petrucci, operatore sanitario e segretario regionale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale, il quale ha sottolineato come nella nostra regione sia presente una rete ospedaliera ancora troppo vecchia ed inefficiente, sia dal punto di vista strutturale che di organizzazione sanitaria, che sembrerebbe rispondere più a criteri di clientela e di campanile che di management sanitario. Se parliamo di rete ospedaliere significa che è un sistema di ospedali che devono servire tutta una regione. Quindi questo significa che va ripreso il discorso delle aziendalizzazioni dei grossi ospedali Chieti Pescara e L'Aquila Teramo, che fu interrotto purtroppo nel 2006 a causa del terremoto e mai ripreso. Da sottolineare ancora, ha aggiunto Mauro Petrucci, che nell'area metropolitana Chieti Pescara, a distanza di pochissimi chilometri, abbiamo due presidi di primo livello con reparti doppioni e sotto organico che più che migliorare l'offerta raddoppiano le spese. Significativo il dato della bolletta energetica che nell'ultimo trimestre del 2022 ha visto quella della sanità abruzzese al primo posto in Italia per un aumento del 160%. Anche perché oggi l'ospedale è più per le patologie ad alto impatto, ad alta tecnologia, è per le patologie tempo dipendenti. Io non devo avere l'ospedale sotto casa, devo avere un ospedale che funziona e che mi dà tutto. Le aree interne potrebbero dire ma noi come facciamo siamo lontani. Benissimo, oggi le distanze non si misurano più in chilometri ma si misurano in tempo. E allora questo significa che potenziando la rete dell'erisoccorso che mi garantisce un trasporto in tempi rapidissimi che posso utilizzare sia nelle aree interne ma anche nell'area metropolitana perché io posso avere anche un'emergenza nell'area metropolitana e posso avere bisogno di un trasporto rapido con l'elicottero. Questo andrebbe a garantire a quelle persone anche la possibilità di avere una risposta immediata. Pertanto è assolutamente necessario e prima di tutto riprendere il discorso delle aziendalizzazioni prevedendone due, Chieti Pescara e l'Aquila Teramo che responsabilizzate dal vincolo del pareggio di bilancio sarebbero costrette a rivedere tutta la loro organizzazione.